Claudia Tosoni esce allo scoperto con una storia su Instagram, che smentiscono le precedenti parole di Pasotti. Ecco cosa ha detto. Si riaccendono le voci di un flirt tra Giorgio Pasotti, e Claudia Motta, ex naufraga dell'Isola dei Famosi. Pare, infatti, che le indiscrezioni abbiano portato i rapporti tra l'attore e la compagna Claudia Tosoni ad incrinarsi. In primis era stato l'ex di Motta, Simone Ruggiati, a fare il nome di un certo Giorgio, non specificando se si trattasse o meno di Pasotti. I diretti interessati, d'altronde, non avevano confermato niente di tutto ciò. Durante un'intervista al Corriere della Sera, tuttavia, l'attore aveva smentito le ipotesi in merito alla rottura con la compagna. Una recente Instagram Story di Claudia Tosoni, però, ha nuovamente cambiato le carte in tavola, permettendo di fare maggiore luce su una questione quanto mai spinosa. Sono in difficoltà a dovermi difendere da chi credevo mantenesse almeno un minimo di gentilezza nei miei confronti. Ci voleva un po' di sensibilità. Giorgio Pasotti, infatti, durante la suddetta intervista, aveva parlato del profondo legame con Claudia Tosoni, dando l'idea che le voci su una loro ipotetica crisi potessero essere spazzate via. Pasotti, ad esempio, aveva parlato del suo desiderio di avere un figlio con la compagna, nonostante la differenza di età. Le parole, che dovevano scacciare le indiscrezioni su una crisi, tuttavia, hanno innescato la reazione di Claudia Tosoni, gettando benzina sul fuoco, e alimentando le voci sul loro conto.